... dell'anno scorso, ricordandovi che vi aspettiamo tutti qui davanti al palazzo di Cianuele al CIVI International, su Paule Street, ovvero per l'apprezzazione di quest'anno, che vi ricordiamo che inizierà alle ore 15 e ci sarà altro parcheggio nei vittori dell'estate. Quindi noi vi aspettiamo, tutta la truppa di ora qui vi saluta e vi auguro un buon proseguimento di sera. Grazie. 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 Grazie a tutti.